Allora siamo nel post partita con mister Accursi che è venuto al posto di mister Caserta allora che tipo di partita è stata? È stata una partita dura nonostante il risultato sia così netto perché queste sono partite molto le ultime partite dei campionati quando si incontrano due squadre con obiettivi importanti perché comunque sia noi che loro avevamo degli obiettivi diversi ma obiettivi per tutte e due e quindi sono partite molto di alta tensione il primo tempo è stato ritengo non giocato benissimo perché loro giustamente si difendevano molto bene ripartivano con giocatori molto veloci e qualche volta ci hanno messo in difficoltà poi quando abbiamo cambiato un pochettino il sistema di gioco abbiamo tenuto di più il possesso di palla nel secondo tempo siamo stati bravi a sbloccarla subito e poi a gestirla e chiuderla nell'arco dei 90 minuti Appunto c'è stato questo cambio di modulo come mai? Notavamo che c'erano delle difficoltà trovavamo pochi spazi là davanti loro si abbassavano con diciamo tutti gli undici e quindi ci chiudevano gli spazi i nostri attaccanti non riuscivano a trovare lo spazio giusto e anche per servire per servirli non si i corridoi non si liberavano e quindi abbiamo deciso di modificarli tornare un attimo al sistema di gioco che stavamo utilizzando nelle ultime settimane per avere un po più di pallino del gioco e gestendo la palla dalla retrovia qual è stata la svolta della partita la svolta della partita è stata l'entrata dei ragazzi l'approccio del secondo tempo quando col gol di rosa abbiamo abbiamo sbloccato quindi quello è stato diciamo il lago lago della bilancia che che ci ha permesso poi di gestire la partita e di chiuderla quanto ci crede il gruppo il gruppo ci crede sempre ci crede dal dal primo 31 di agosto se non sbaglio siamo tutti noi siamo arrivati qua con questo con l'obiettivo di vincere cercare di vincere il campionato e quindi il gruppo ci crede ci crederà fino alla fine a chi è dedicata questa vittoria la dedichiamo al mister perché ha avuto questo calo di di tensione a fine a fine partita e quindi lui è una persona che dà tutto per questa per questa squadra per questo suo lavoro e quindi delle volte succedono queste piccole inconveniente quindi la dedichiamo tutti a lui se qualsiasi risultato ci sarà domani e dopo domani sicuramente le altre due giornate saranno importanti quanto quella di questo questa qui quindi pensare concentrarsi troppo sulle altre ci fa spendere solo altre energie quindi siamo proiettati come ha detto il mister in tutte queste settimane ad affrontare le nostre partite perché poi vediamo anche ci sono delle difficoltà quando scendiamo in campo perché noi anche noi giochiamo con squadre e che hanno un qualcosa da da raggiungere